Chi vuole, come nasce questa collaborazione? Una collaborazione che inizia tre anni fa. Il cantautore fiorentino Giulio Wilson aveva appena composto Vale la Pena e per vicinanza di temi trattati e sonorità tipiche delle Ande, pensa bene, nonostante sia nato solo negli anni Ottanta, di inviare tutto in Cile, agli Intillimani. Come si fa a non conoscere gli Intillimani? Io li conoscevo assolutamente, a casa ho tutti i vinili, addirittura dei miei genitori. Anzi, i miei genitori non ci credono, questa cosa sembra quasi assurda. Costruire è meglio che distruggere, recita il testo di Vale la Pena, un messaggio che, in tempo di guerra russa, suona ancora più forte. Gli Intillimani vissero in Italia per 15 anni a partire dal 73, quando in Cile il generale Pinochet impose la dittatura con un colpo di Stato. Hai vissuto quindi sulla tua pelle la mancanza di democrazia. Cosa pensi di quello che sta succedendo in queste ore in Europa? L'Italia che io ho conosciuto, penso che dopo sia andato perdendo quel bisogno, quel sentire ogni giorno, il bisogno della democrazia. È come quando respiri e non sai perché è così importante respirare. Penso che ci sono giorni adesso in cui tutte queste convinzioni sono più forti che mai, però sono il risultato anche di aver dimenticato il valore della democrazia, il valore della convivenza. Non è la prima guerra, non sono i primi rifugiati. Avremmo dovuto ricordarci di più che non sempre la democrazia è una cosa che una volta acquisita rimane per sempre. Fino al 20 marzo gli intellimani tornano in tour in Italia a sostegno dei migranti e dei diritti umani in collaborazione con Amnesty International e Voci per la Libertà. Voi aiutate Amnesty, Amnesty aiuta gli ideali che voi proponete attraverso la vostra musica. Penso che tutti insieme aiutiamo della gente.